Felicità, a proposito di felicità, cercatelo tutti i giorni, continuamente, anzi, chiunque mi ascolti ora, si metta in cerca della felicità ora, in questo momento stesso, perché è lì, ce l'avete, ce l'abbiamo, perché l'hanno data a tutti noi, ce l'hanno data in dono quando eravamo piccoli, ce l'hanno data in regalo, in gote, ed era un regalo così bello che l'abbiamo nascosto, come fanno i cani con l'osso quando lo nascondono, e molti di noi l'hanno nascosto così bene, che non si ricordano dove l'hanno messo, ma ce l'abbiamo, ce l'avete, guardate in tutti i ripostini, gli scaffali, gli scomparti della vostra anima, buttate tutto all'aria, i cassetti comodini che ci avete dentro, vedrete che esso è fuori, c'è la felicità, provate a montarvi di scatto, magari la figliate di sorpresa, ma è lì, dobbiamo pensarci sempre alla felicità, e anche se lei qualche volta si dimentica di noi, noi non ci dobbiamo mai dimenticare di lei, fino all'ultimo giorno della nostra vita, fino all'ultimo giorno della nostra vita. Grazie a tutti!